Moreola Nencini, domani la fiducia in aula, come voterete? L'Italia ha bisogno di stabilità e la stabilità viene data dai governi efficienti ed efficaci. Senza un governo torniamo a pagare l'Imu, rincara l'Iva, non ci saranno politiche per il lavoro. Questa è la ragione per la quale se Letta porrà la questione di fiducia la voteremo.